Le vicende di Nian e Kemal, continuano a tenere col fiato sospeso gli appassionati di Endless Love, tra intrighi, amori tormentati e un destino che sembra sempre più incerto. Ma cosa succederà nelle prossime puntate della serie? Non c'è pace per i protagonisti della serie Endless Love. Menmano che ci avviciniamo alla seconda parte della stagione, le complicazioni sembrano moltiplicarsi. Nian in particolare sarà costretta a navigare in acque turbolente, dovendo affrontare situazioni tanto difficili quanto pericolose. La scelta di Nian di lasciare Istanbul e di volare a Londra con la madre per partorire la piccola Denise sarà solo l'inizio di una serie di complicazioni. Il suo ritorno in Turchia sarà tutt'altro che sereno, con Emir che non ha la minima intenzione di permettere a Kemal di riaverla senza dare battaglia. La tensione è alle stelle. Nel cuore del dramma, Nian vedrà la propria vita sconvolta da eventi assolutamente imprevedibili. Il rapimento di Denise e il confronto con Kemal innalzeranno ulteriormente la posta in gioco. Emir, accecato dalla gelosia, escogiterà piani estremi per tenere Nian accanto a lui, anche rischiando la vita di entrambi. Mentre Nian lotta per ottenere il divorzio, Emir non sembra intenzionato a cedere. I suoi tentativi di ostacolare la relazione con Kemal renderanno la vita di Nian un vero pericolo. In questi momenti di alta tensione, Nian si troverà in una situazione angosciante, rapita e portata in un luogo minacciato da Mine. L'arrivo di Kemal per salvarla porterà entrambi al limite. Con gli esperti di esplosivi a sottolineare i rischi mortali di ogni movimento, la paura si taglia con un coltello. La tensione raggiunge il culmine quando Kemal sceglierà di portare con sé Emir in questa trappola mortale. Si sta preparando un finale che potrebbe essere fatale per tutti. Nian si trova davanti a un dolore inconcepibile, mentre si prepara a dire addio all'amore della sua vita. Le prossime puntate promettono emozioni a non finire e colpi di scena che lasceranno tutti senza parole. Endless Love ci mostra una storia appassionante che gioca con i sentimenti degli spettatori, toccando tematiche come l'amore e il dolore. Restiamo in trepidante attesa di vedere come si svilupperà questa intrigante narrazione. E voi, cosa pensate sarà il destino di Nian e Kemal? Saranno capaci di superare queste prove, o il loro cammino sarà ancora disseminato di dramma e difficoltà. Amare non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione, sosteneva Antoine de Senex Superi. Questa massima sembra riecheggiare tragicamente nelle vicende di Nian e Kemal, protagonisti di Endless Love, dove il loro amore è messo a dura prova da ostacoli inimmaginabili. Le anticipazioni della seconda stagione ci trascinano in una narrazione dove l'amore, pur essendo la bussola che guida i protagonisti, si scontra con la realtà crudele degli intrighi e delle vendette. La scelta di Nian di trasferirsi a Londra, lontano da Istanbul, sembra un tentativo disperato di guardare nella stessa direzione del suo amato Kemal, ma il destino ha in serbo per loro una prova ancora più grande. La furia di Emir, che non si rassegna a perdere Nian, diventa metafora di tutte quelle forze esterne che possono tentare di distruggere l'amore vero. Eppure, il sacrificio estremo di Kemal, che decide di affrontare la morte insieme al suo rivale pur di proteggere Nian, eleva la loro storia a epopea dell'amore sacrificale. In un mondo dove le relazioni sembrano sempre più effimere e superficiali, Endless Love ci ricorda che l'amore autentico è disposto a guardare nella stessa direzione, anche quando questa conduce verso il sacrificio supremo.